Ciao a tutti ragazzi, scusatemi se è da circa due mesi che non pubblico video qui sul canale mio Fraus personale. Volevo semplicemente avvisarvi che a breve ripartirò con il canale con qualche nuovo video incentrato principalmente su armi per il momento ad aria compressa e CO2. Attenzione non da soft air, mi riferisco armi ad aria compressa da 4 mm e mezzo. Per quanto riguarda invece le armi da fuoco mi sto adoperando e sto facendo qualche lavoro per vedere come poter fare il tutto in regola e senza avere poi problemi perché trattandosi di armi da fuoco qualche problema prima o poi esce. Quindi si tratta o di trovare poligoni convenzionati dove fare video oppure la maniera migliore per riuscire a fare presso la mia abitazione in campagna un poligono privato da mettere in regola senza avere rottura in seguito. Ovviamente per tutto questo tempo non ho potuto dedicare molto tempo a questo canale perché tra parliamo di videogiochi per cui vi informo che sta per uscire anche una mia nuova rubrica e spero, anzi sono sicuro che vi piacerà anche perché non si tratta di una delle mie solite rubriche si tratta di qualcosa di un po' diverso, un tipo proprio di video diverso da quelli soliti miei del canale quindi niente di simile a giochi brutti, giochi di pessimo gusto, creepy games qualcosa di totalmente nuovo ma sono sicuro che lo apprezzerete. Ci sto mettendo un pochino a prepararla perché appunto è una sperimentazione e sto preparando i primi tre episodi da mostrarvi, non dico in rapida successione però con una cadenza fissa per vedere se appunto la rubrica va e posso continuarla tranquillamente. Ovviamente tutti questi lavori per quanto riguarda parliamo di videogiochi il canale anche di momenti di qualità tramite il quale anche mi state dando molte soddisfazioni perché in primis non amo moltissimo il gameplay infatti è il motivo per cui abbiamo un canale apposito per mettere il nostro randomness infatti avete visto ci sono tantissimi video che non riguardano videogiochi e poi i nostri gameplay dato che ci vengono chiesti ovviamente non di titoli che fanno tutti quanti ma appunto titoli che ci interessano particolarmente e che sono particolari di nicchia o comunque non sono conosciuti molto al grande pubblico. Quindi per via di tutte queste cose che vi ho appena detto sto avendo sempre meno tempo per il canale personale anche perché, ve lo voglio confidare, non sto passando proprio un bellissimo periodo in questo momento nessun problema in famiglia, niente di così grave è soltanto un momento in cui ho bisogno magari faccio le cose un po' più lentamente con più calma, con più attenzione di prima però spero di continuare sempre a fornirvi materiale, tipi di video di qualità semplicemente anche collegato al fatto che vedete una successione meno lenta delle rubriche, quelle mie principali che tra parentesi sto completando sia giochi brutti sia giochi di pessimo gusto quindi sono rubriche che con molta probabilità non abbandonerò mai quindi sappiate che comunque c'è un periodo che sto un pochino così passerà come tutte le altre cose però cercherò di risolvere quanto quanto prima qualche piccolo problema che sto avendo in questo periodo e dopo questa breve premessa e avervi rivelato quali sono i miei prossimi piani quindi questa nuova rubrica su cui confido veramente tanto sono veramente convinto che potrà essere qualcosa di simpatico e poi tutti i vari spostamenti e azioni che stiamo svolgendo tra il canale di Parliamo di Videogiochi e Momenti di Qualità spero di riuscire a continuare a darvi una qualità abbastanza alta dei video e una presenza sempre maggiore sotto tutti i punti di vista con questo spero di non lasciarvi un video tra altri due mesi anzi molto probabilmente il primo video su armi da 4,5 mm lo avrete relativamente a breve e niente grazie per chi è ancora iscritto al canale perché ovviamente un canale inattivo non è molto bello da vedere e ci becchiamo alla prossima con un video riguardante le armi ciao